Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti in un nuovo video! Che cosa andremo a fare oggi? Una cosa fastidiosa, sì, sì, ma vedete alle mie spalle la cabina armadio? Praticamente tutto il mio armadio, un armadio che ha bisogno di un bel decluttering. Decluttering di primavera, liberiamoci di tutte le cose che non mettiamo più, di tutte le cose superflue, di tutte le cose che non ci stanno più. Diamoci dentro, go! Allora, innanzitutto voglio farvi vedere la situation. Questa è tutta la parte invernale, questi sono pantaloni e jeans e questa è tutta la parte estiva, poi lì ci sono le magliette e altre cose. Devo andarmi ad occupare di questa parte qui e se ce la faccio anche di quest'altra. Magari se il video viene troppo lungo cerco di dividerlo in due parti, però io di solito quando mi metto a fare queste cose ci do dentro e butto praticamente tutto. Quindi preparatevi a vedere il mio armadio completamente svuotato. Anni fa lessi il libro di Marie Kondo, Il Magico Potere del Riordino, e devo dire che mi ha aiutato tantissimo. Se siete in questo mood e siete curiosi, andatevelo a comprare, leggetevelo perché comunque vi apre un mondo. È vero che dice sempre un po' le stesse cose, sempre un po' nella stessa maniera, però alla fine a forza di dirle, ventro e in testa, proprio come è successo a me. L'unica cosa che io non riesco veramente a fare è prendere tutti i vestiti e buttarli per terra. Questa è l'unica cosa che non riesco a fare, non l'ho mai fatta, non so perché, però non la farò neanche questa volta. Li prenderò uno per uno e li poggerò sul puff. Vi dico la super 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 sincera verità. Anni fa, anni fa, anni fa, secoli fa, no, un paio di anni fa comprai dei completi, quindi il sopra e il sotto, e mi sono trovata super bene perché basta tirarli fuori dalla stampella, già sai come vestirti. L'importante è solo che tu sappia quale completo desideri indossare. Poi chiaramente il completo si può cambiare, tipo pantaloni del completo, il sopra magari una semplice t-shirt, oppure la maglia del completo e sotto magari un jeans, ma quello è a piacimento. Ma quando andiamo di corsissima, il completo è miracoloso. Io mi trovo veramente super bene e sicuramente ne acquisterò altri, già li ho visti e non appena potrò, insomma, che sarò decisa su quello che desidero acquistare, me li aggiudicherò tutti. Qui abbiamo questa camicia, molto bella, ma che è una vita che non metto, quindi via. Io ragazzi, molto così, non ci sto a pensare tre ore, quello che voglio e quello che non voglio, già lo so, anzi, spesso so più quello che non voglio rispetto a quello che voglio. E questo in generale nella vita mi ha sempre aiutato. Poi abbiamo quest'altra camicetta, guardate che carina, molto molto carina, con questi uccellini, che so, corvi, passerotti, non lo so, però comunque l'ho amata, l'ho adorata, l'ho messa, l'ho stramessa e adesso basta, perché è una vita che non la metto più. Ed ecco qui c'è Miss Camicetta Bianca. Io penso che la camicia bianca debba esserci in ogni guardarobba. Anche nel mio, che effettivamente le camicie ormai le uso poche niente. Però questa camicia è stata usata e strausata. L'ho provata ultimamente e non mi si abbottona più. Quindi non la tengo nella speranza che un domani mi rientrerà. Se un domani avrò bisogno di una camicetta bianca, ma ricompro. Io questa penso che non la butterò mai, questa è una delle mie preferite. Guardate le maniche, proprio da Halloween, da streghetta. Ci ho fatto pure un TikTok con questa maglia che amo e adoro. Sì, ci ho fatto un TikTok su Mercoledì Addams. Se non l'avete visto, andate sul mio TikTok e vedetelo. C'avevo pure i capelli neri, scuri, vabbè. E qui è fatta così, c'ha il colletto alto. E no, questa l'amo troppo, quindi la tengo. C'è stato dolentissimo questo gilet. Guardate dietro. Cioè è stupendo. Veramente bello con tutto questo pizzo. Voi mi direte, in dove ce vai? Non lo so, perché io sono sempre in giro con Pablo come una ziggara scappata da casa. Però ragazzi, non mi sento di buttarlo perché ci sono affezionata. Perché l'ho messo poco e niente anche in questi anni. Però mi piace tanto e al momento non mi sento di buttarlo. Comunque, a entra, a me entra perché non c'è manco i bottoni, quindi top. Altro tasto dolentissimo. Altro gilet. Ma che ce devo fare io con tutti questi gilet? Comunque, questo di pelle, così e sotto. Questo c'è qualche anno, eh. Questo c'è qualche anno. Però è rimasto nuovo perché ho messo pochissimo. Ma vediamo se quest'anno riesco ad avere qualche occasione per indossarlo. Ci sono troppo affezionata a sto gilet. No, non voglio, non voglio darlo via al momento. Quindi lo tengo perché soprattutto rispetta il mio stile. Quindi, eh, con questa pelle, con questo veletto, così da mettere su un jeans. Speriamo che me ne ricordo. Comunque, al momento non mi sento di buttarlo, quindi non lo butterò. Gonna gonnella. Eccola qua. Fatta così, con quest'elasticone. Allora, diciamo che io a questa gonna ci sono parecchio affezionata. L'ho messa sì, l'ho messa spesso, ma non né spesso né mai. L'ho usata. Però, ragazzi, non la sto ammettendo. Non la sto ammettendo. Mi pesa tenerla lì. Questa l'avevo comprata e mi stava da Dio quando c'avevo qualche chilo in meno. Quindi, sperando di mangiare meno pane e di potermela rimettere, magari non rimettere proprio questa. Magari ne comprerò una simile, se proprio la voglio. Ma questa la ringrazio. Bacino e do via. Magari va qualcuno alla quale sta veramente bene e se la può, insomma, godere, anche perché non è strappata, non è rovinata. Perché io le cose strappate, rovinate, non le do via, le acchiappo e le butto direttamente. Perché nessuno merita di prendere le mie cose rattoppate, strappate, usurate proprio dal tempo. Io sono sempre dell'opinione che si danno via le cose decenti. Poi io che cosa faccio? Questo piccolo preambolo aperto, chiusa parentesi. Prendo tutte queste cose prima di darle via. Gli do una bella lavata. Le metto dentro a delle bustine. Lo so, raga. Io, cioè, so tipo un robot su alcune cose. Le metto belle piegate dentro a delle bustine. Poi nei sacchi. E le porto o in chiesa o ai secchioni quelli gialli. Anche se la storia dei secchioni gialli ne ho sentite tante. Insomma, non è che mi piace proprio tanto. Però, insomma, se non trovo nessuno al quale dare i miei indumenti, li devo mettere ai secchioni gialli. Sperando sempre che vadano a persone che, insomma, ne abbiano bisogno. Andiamo avanti. C'è questo vestito stupendo. No, vabbè, ragazzi. Questo me l'ero preso. Tanti anni fa era il periodo di Natale. Vabbè, comunque è veramente bello, bello, bello. Bello, stretto in vita. E poi qui c'è il collo. E si lega con un fiocco. Bello, bello. Molto elegante. Però non me sta più. Quindi, odo da via. Oddio, ma che è sta cosa? Una camicia da notte, no? Un vestito. No, vabbè, raga. Ma che è? No, allora. Io questo l'ho preso da Primark. Ma è un vestito, in realtà. E non ho mai, mai, mai messo. Perciò, che ce devo fare? Lo sapete che faccio? Invece di darlo via, lo uso come sottoveste per l'estate. Quasi, quasi. Per andarci a dormire. Tipo camicetta da notte per l'estate. Che ne dite? Fatemelo sapere nei commenti. L'unica cosa che mi preoccupa è che effettivamente i pigiami o le sottovesti sono fatte di un materiale specifico. I vestiti in un altro. Quindi non vorrei che soffoco con questo. Perché poi, guardate, vedete che qui c'è, vabbè, diciamo, la sottoveste della sottoveste. Non lo so, raga. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Perché questo lo tengo in stand by. Io, in base ai vostri commenti, lo terrò o lo darò via. Quindi, super, super, super sinceri. Se, ovviamente, non come vestito, ma come camicia da notte per l'estate. Fatemelo sapere. E in base ai vostri commenti, positivi, negativi, tienilo, lascialo. Deciderò, insomma. Poi c'è questo, ovviamente, è il mio preferito. Non lo darò mai via. Ci tengo tantissimo. È stupendo, meraviglioso. Messa ancora? Sì, messa ancora. Perché è super elasticizzato. Mi fa le forme? Sì, mi fa le forme. Però, con una bella giacca sopra, magari un po' lunga, si smorza un po' il fianco. Però questo mi piace troppo, ragazzi. Ci sono affezionata. È bellissimo. È anche molto, molto elegante. Quindi, lo tengo. C'è questo. Che mi piace super, super tanto. Quindi, lo terrò, assolutamente. Molto carino. Molto sbarazzino. Sembra cortissimo. Ma, ragazzi, non è cortissimo. Arriva fino al ginocchio. Tengo anche questo. Perché mi piace super, super tanto. Molto bello. Sembra tanto, tanto trasparente. In realtà, quando lo indossi, non è così trasparente. Ma io ho una sottoveste di Intimissimi comprata tantissimi anni fa, che ancora ho. E, devo dire, ce lo metto sotto e va benissimo. Questo mi piace proprio tanto, 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 tanto. Guardate che bel colore. Che bella fantasia. Un po', non lo so, un po' smortarella adesso a guardarla bene. Però, no, mi piace. Dai. Questo si tiene. Questo, va bene. E' uno dei miei preferiti, quindi lo tengo. Perché lo adoro. E' bello lungo lungo. E' comodo, comodissimo. Mi piacciono i colori. Mi piace tutto. Mi piace la fantasia, quindi lo tengo. Poi c'è questo, che è un vestito tipo a tuta con il cappuccio. Lo adoro. Non lo butterò mai, a meno che non si logora. Non gli danno fuoco. Non so, mangiano i leoni. Quindi questo si tiene. Allora, ragazzi, c'è questo. Questo mi piace super, super, super tanto. Però, a tantissimi anni, l'ho messo tantissimo. Ultimamente non lo metto, quindi lo do via. Mi dispiace, è un casino, perché guardate che cos'è. Molto, molto carino, elegantino. Però, ragazzi, non me la sento di tenerlo. Perché poi mi ricorda anche una cosa non proprio piacevole, quindi preferisco darlo via. Comunque c'è un botto di vestiti, eh. Poi, eccola qua. Questa è una tuta completo. Una tuta enigma. Perché l'ho comprata? Perché? C'è questo crock top. Adesso lo faccio vedere. Su questi pantaloni super stretti, super aderenti, con il crock top sopra. Ma c'è nel senso, no? Perché? Vi giuro, ragazzi, mai messo. E ho fatto pure bene, perché diciamo che... Dove ce vado? Comunque questo enigma, ragazzi, vi saluta. Vi ringrazia e va via. La giacca nera, ovviamente, la tengo. Poi c'è sta giacca super carina, ragazzi. Però, boh, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Nel non lo so, la do via. Poi c'è pure questa. Sta giacca tristissima grigia, no. Non mi piace proprio, mi è mai piaciuta. L'ho messa, sì. Però, no, mi mette tristezza solo a guardare, la do via. Questa è la giacca rossa di Natale, però non la posso dar via perché è demigognata. Se la do via, mamma fa. Questo è il giacchetto di jeans. Cioè, io penso più dei 10 anni. Questo andammo con mamma a vedere il mio regalo di compleanno. E lei mi comprò questo ed altre cose. Allora, questo giacchetto sarà pure passato di moda, non lo so. Io ancora me lo metto e mi ci sento benissimo. Mi ci sento a mio agio. È anche nel mio stile. E poi, ragazzi, non lo so, mi ricorda un momento tanto felice e tanto bello della mia vita che poi magari un giorno vi racconterò. Fra un po' di tempo, però, perché ho bisogno di tempo per raccontarvelo. Perché è un momento bellissimo, ma anche molto delicato e sofferto. Quindi, questo lo tengo perché ancora me lo sento bene addosso. Poi è un regalo della mia mamma, ci tengo. Ma a parte questo, a parte il lato sentimentale, mi ci sento ancora bene quando me lo metto e quindi lo tengo. Questo è il mio bottino del decluttering degli indumenti invernali. Ma mancano ancora pantaloni, jeans e tutto il guardaroba estivo. Non posso mandare il video troppo avanti, altrimenti diventa noioso e non mi seguite più. Quindi continuo a registrare e vedrete la fine del decluttering del mio armadio nei prossimi video. Vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine e spero di avervi tenuto compagnia anche oggi. Se il video vi è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e seguimi su tutti i miei social. Mi trovi su Instagram e su TikTok, Lea e Pablo. Vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!